Il distacco di retina è un'evenienza che può avvenire senza una motivazione, senza che il soggetto possa accorgersene, ma in genere è preceduta da alcuni segni speciali che sono quelli della visione di alcuni lampi luminosi, seguiti dall'insorgenza di alcune macchie nere che possono essere la spia di un'alterazione del rapporto tra il vitrio e la retina che è alla base del distacco di retina, ovvero se esiste una trazione del vitrio sulla retina, del corpo vitrio sulla retina, questa trazione si può scaricare rompendo la retina come fa uno scotch quando uno lo leva da una carta e dalla rottura letinica originarsi un distacco di retina attraverso il passaggio di acqua dalla cavità vitria al di sotto della retina, un po' come quando fa un foglio di carta del muro quando si scolla dal muro in un punto perché la colla non tiene più, mano a mano si scolla sempre di più.